ben ritrovati buongiorno con noi questa mattina ospita una persona che ha una storia del tutto particolare ma che per noi tv è un volto più che conosciuto è spesso protagonista del nostro tech magazine responsabile del polo tecnologico lucchese nico cerri buongiorno buongiorno giulio buongiorno a tutti ma soprattutto è un interlocutore del quale approfittiamo per parlare di diversi aspetti sia diciamo così sociologico antropologico ma anche di aspetti economici primo fra tutti nei giorni scorsi abbiamo sentito che potrebbe saltare a livello politico quella che è la possibilità la previsione di un accorpamento tra le camere di commercio per quanto riguarda la toscana lucca in particolare di lucca pisa e massa carrara quale visto che sei un coinvolto in prima persona sì perché comunque sei del tuo rendi conto la camera di con il polo tecnologico lucchese è un progetto che nasce in camera di commercio la camera di commercio che l'ha realizzato quindi ed è la camera di commercio sempre il socio unico appunto della società che gestisce il polo per la quale io lavoro quindi sono diciamo i nostri genitori non è certo in un certo senso che si dice riguarda questa cosa allora facciamo scusa un brevissimo escursus negli ultimi tre anni sono successe cose tra virgolette drammatiche per le camere di commercio e un battimento si è cominciato sì sotto la precedente col precedente governo hanno stati previsti un iniziale taglio delle delle entrate che delle camere di commercio che derivano dal dal diritto annuale che è una tassa che le imprese del territorio in questo caso la provincia lucchese pagano alla camera di di commercio e inizialmente era stato previsto un taglio vada a memoria del 30 35 per cento per poi essere aumentato fino al 50 e contestualmente si sono diventati imprese senza portafoglio praticamente si sono diventati ministri senza portafoglio no questa cosa qui fra l'altro sul polo di lucca ha avuto un effetto una ricaduta pesantissima perché all'epoca erano in via di ultimazione i lavori per la selezione dell'impresa che doveva realizzare un altro edificio come questo quindi doveva il polo era in una fase di espansione no e questa misura insieme anche a una ridistribuzione poi delle competenze tra province camere di commercio regioni eccetera ha portato a una brusca una brusca frenata per cui ti fermo solo un secondo perché noi tralasciamo perché essendo qua ce ne dimentichiamo l'edificio come questo stiamo parlando del polo tecnologico lucchese dove noi tv è insediata dal 2013 quindi in questo momento in chi ci vede in diretto chi ci vedrà nella trasmissione registrata vede una trasmissione che viene realizzata all'interno del polo tecnologico lucchese ecco perché si parlava di possibilità di raddoppiare un edificio come questo più o meno a lucca tutti lo conoscono mentre mentre continui a raccontarci magari vi faccio vedere anche una foto per chi non l'avesse presente e la cosa importante è che non 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 ci siete solo voi nel polo tecnologico lucchese ma ci sono 20 oggi sono 28 aziende molte di queste la metà di queste sono aziende composte da giovani imprenditori che hanno qui delle condizioni diciamo agevolate poter avviare le loro attività quindi è un posto dove si fa sviluppo e quindi questo dal nostro piccolo punto di vista ci ha un po rallentato l'altra misura che invece riguardava le camere di commercio a livello legislativo era l'accorpamento cioè l'idea che le camere di commercio del territorio nazionale si fondessero per ridurne il numero dalle 90 100 che erano a circa un terzo e per lucca era stato previsto che la fusione dovesse avvenire con pisa e massacarrara il processo era già stato avviato processo amministrativo complesso di cui ci risparmiamo tutti volentieri i dettagli però massacarrara ha avuto dei dubbi amministrativi dei dubbi legati alla alla agli effetti della 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 normativa degli accorpamenti ha fatto ricorso ricorso amministrativo che ha subito che ha impresso vista l'ultima decisione dei giudici amministrativi ha impresso uno stop alla alla procedura quindi siamo diciamo in una fase ancora di sviluppi processuali processi di tipo amministrativo ma insomma vediamo alla prima fase siamo sia la prima fase quindi vediamo se consiglio di stato e sarà una cosa piuttosto anno nuovo piuttosto lunga e dal punto di vista della tua esperienza come sta l'impresa giovane lucchese non solo lucchese ma insomma tu che studi questi processi a 360 gradi se ci puoi fare un po un quadro della situazione allora la sensazione guarda io ti direi una bugia ti dicessi che ho una visione sistematica da studioso io quello che dico sempre quando parlo del mio lavoro non sono un teorico non ho neanche grandi basi teoriche o una laurea in legge quindi non vengo da un mondo d'economia quindi sono abituata a confrontarmi con le persone come singoli allora parto da un dato che avrebbe dovuto preoccuparmi cioè che le start up a lucca le aziende appena costituite iscritte al registro delle imprese della camera di commercio della sezione dedicata a chi fa innovazione sono pochissime siamo tra gli ultimi posti in in italia perché dico avrebbe dovuto preoccuparmi perché lavorando in una struttura che ospita giovani imprese che hanno una forte vocazione all'innovazione dovrei avere no dei segnali preoccupanti in realtà io questi segnali personalmente non li ho cioè la nostra struttura ospita un numero costante di imprese innovative stanno qui tre anni poi vanno qualcuna rimane e ho una costante richiesta di insediamenti essendo giovani imprese con una caratterizzazione innovative non sono numeri altissimi ma non sono numeri altissimi in tutte le province simili alle nostre quindi senza l'università fuori da si fanno eccezione anche le grandi metropoli quindi dal mio punto di vista il tessuto il giovane tessuto imprenditoriale lucchese è un tessuto vivace a prescindere dal fatto che si scrivono non nelle sezioni del registro delle imprese dedicate all'innovazione però io ho una sensazione complessivamente positiva il che non vuol dire che sia una cosa facile avviare un'impresa che non non vuol dire che sia scontato che abbia un esito positivo ma registro una una costante voglia di avviare nuove imprese da parte di giovani professionisti questo sì e voi in questo percorso cercate di accompagnarli con un sostegno di servizi di sostegno si tieni conto che che economico che conosce allora sì ti hanno conto che questa cosa qui su lucca prima mi dicevi no di lucca è un'attività che anche la camera di commercio ha svolto negli anni e svolge tuttora ed è dedicata a chiunque vuole aprire un'impresa di qualunque tipo mi spiego una pizzeria al polo tecnologico non non è un'attività che possiamo ospitare perché non è innovativa però è secondo me doveroso che il sistema di sostegno alle imprese permetta un giovane imprenditore che vuole aprire una pizzeria e avere un minimo di percorsi di accompagnamento questo lo fa la camera di commercio noi ci siamo più che altro specializzati sul settore dell'informatica quindi a chi vuole sviluppare aziende che hanno dei contenuti di innovazione i servizi di assistenza sono in parte economici perché essere ospitati al polo avviene a delle condizioni economicamente più vantaggiose che andare sul mercato noi diamo per esempio degli uffici che sono completamente arredati serviti di tutte le utenze a un canone diciamo calmierato quindi l'aspirante imprenditore che approda al polo tecnologico si deve preoccupare solo di portare il computer il giovane imprenditore e già questo è un elemento di facilitazione perché vuol dire anche non avere sulla propria attività tutto il carico di gestione della parte immobiliare le manutenzioni le facciamo noi le pulizie ci pensiamo noi eccetera quindi vogliamo che chi fa impresa al polo si dedichi solo al fare impresa quindi vogliamo che i giovani imprenditori siano concentrati sul loro progetto quindi facilitazione economica e facilitazione di servizi di tipo logistico e gestionale poi facciamo dei servizi sui contenuti il principale servizio che facciamo è quello di cercare di creare delle relazioni relazioni tra le aziende giovani che sono qui ma anche le aziende mature come siete voi noi tv ce ne sono altre al polo sono altre tante sono 14 15 aziende che comunque hanno scelto di venire al polo per ragioni di propria innovazione di crescita di sviluppo per sviluppare a loro volta progetti innovativi metterli accanto a delle start up quindi a delle persone giovani con un grado di competenze professionali molto alto permette di far incrociare i vostri bisogni con la loro offerta e noi lo sappiamo benissimo più di una volta voi avete fatto ricorso alle professionalità delle tanto per dare un'indicazione a casa la veste grafica che vedete oggi di noi tv che è stata rinnovata poco più di un anno fa con il nuovo logo con i nuovi colori che se guardiamo i dati auditor sicuramente è stata una scelta vincente viene da un'azienda insediata nel polo che è Genao Genao che poi gestisce il co-working abbiamo conosciuto qua c'è il co-working esatto poi anche questo è un altro aspetto importantissimo del polo quello del co-working perché è per chiudere il ragionamento quindi quello che avete fatto voi l'hanno fatto tante aziende mature che sono qui di coinvolgere le start up che non è solo tu mi dai un servizio mi fai la fattura io ti pago ma è la compenetrazione delle conoscenze della discussione quotidiana il conoscersi l'avere l'idea delle persone con cui abbiamo a che fare e soprattutto come dicevi tu delle professionalità che crescono all'interno del polo tecnologico arrivano formate e escono ancora più specializzate questo è il servizio base e cerchiamo poi di esportarlo anche sul territorio questa è una partita un pochino più complicata però l'idea è che questo posto diventi un po' un punto di incontro tra chi offre e chi domanda innovazione siano insediati o meno e tante volte lo è con i seminari con gli incontri che organizzate infatti che è l'altro ramo dei servizi è un'attività che ha una certa costanza lo facciamo sempre insieme alla camera di commercio ci sono appunto seminari attività di formazione corsi per chi avvia un'impresa per chi la vuole avviare e poi altri servizi che facciamo quindi c'è questo di formazione sono sempre legati alla costruzione di relazioni spesso una start up una giovane impresa ha bisogno di risorse economiche perché ci sono buone competenze buone idee con pochi soldi quindi quello che cerchiamo di fare è o sostenere i procedimenti per esempio per accedere ai bandi regionali ai bandi nazionali per ottenere risorse che finanzierano progetti oppure cerchiamo gli investitori privati gli investitori privati sono quei soggetti che possono essere persone fisiche quindi persone che hanno molti soldi che nel diversificare i propri investimenti possono decidere di anche investire in una giovane impresa quindi cerchiamo di trovare punti di contatto tra giovani imprese e chi vuole investire in giovani imprese a volte questi investitori invece sono costituiti in delle vere e proprie società e la peculiarità è che questi soggetti non prestano soldi alle imprese in questo caso chi partecipa a un progetto imprenditoriale finanziandolo non si attende la restituzione del prestito è disposto a rischiare insieme all'imprenditore quindi se le cose vanno male il giovane imprenditore non deve restituire quanto ha ricevuto il finanziamento quello che si aspetta un investitore che sia un business angel quindi una persona fisica o una società di investimento è di poter rivendere la propria partecipazione in quella società a un prezzo molto più alto perché è convinto che quell'azienda possa crescere molto quindi ci sono, per dire anche a Lucca c'è una società di investimenti che collabora permanentemente con noi, che tiene monitorate le nostre aziende e quando trova qualcosa di interessante da questo punto di vista ci interagisce e poi c'è l'università che è tutto un mondo legato sempre all'innovazione e qui si va ancora oltre ci fermiamo un breve break per la pubblicità e poi ancora qui con Nico Sherr abbiamo parlato del Polo ma sfrutteremo la presenza di Nico anche per toccare un po' quelli che sono i temi della cronaca quotidiana e le sue esperienze per cercare di dare un punto di vista anche nostro a proposito di giovani c'è un argomento che tiene banco purtroppo ormai da tre giorni sulle cronache nazionali e diventa argomento di discussione quanto accaduto ad Ancona la strage dei ragazzi all'uscita dalla discoteca dove c'è stato, lo sapete, l'utilizzo di spray al peperoncino che ha provocato fuggi fuggi e poi l'uscita della discoteca è crollata una balaustra il primo lo vediamo dalla prima del Corriere lo abbiamo visto prima nella nostra rassegna stampa è fermato il ragazzo dello spray sospetti su un 16enne che è stato trattenuto per droga cioè ci sarebbe stato un ragazzo che all'interno della discoteca ha usato lo spray al peperoncino la prima cosa che ti chiedo Nico è che c'è anche un tentativo di disegnare le nuove generazioni come completamente diverse dalle vecchie ma soprattutto generazioni un po' perse perché si dice una generazione che fa la fila per ascoltare il trap questa nuova tendenza che viene dopo il rap che utilizza i distorsori della voce ma soprattutto utilizza un racconto della vita attraverso l'uso di un linguaggio del tutto particolare e del tutto giovanile siano lo specchio di una generazione che rappresenta un po' il vuoto che avanza come diciamo spesso noi la realtà non è solo questa perché comunque i giovani storicamente sono stati portati a seguire soprattutto nella musica approfitto delle tue conoscenze in questo senso a seguire delle novità che lì per lì sembravano devastanti drammaticamente diverse da quello che era stata la sicurezza che ci davano le canzoni di Domenico Modugno e poi il rock è diventato quello che è diventato il tema è premesso che pensare che dei ragazzi escono per andare a passare una serata questo sottointeso e non tornano a casa è straziante quindi a livello personale è una cosa che mi tocca perché quante volte sono andato a un concerto e non stiamo parlando solo di concerti con centomila persone no 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 anche concerti piccoli in ambienti simili generi musicali diversi però il contesto è quello oppure come genitore penso a a chi la mamma manda al figlio dice sta attento torna presto l'accompagna come è successo a quella mamma e poi si trova di fronte a queste situazioni tra l'altro anche il numero dei feriti è ancora altro quindi è una cosa terribile sui ragazzi è un tema si legge e si sente tanti pareri diversi tante tante considerazioni diverse io anche qui torno al fatto a quello che ti dicevo prima non ti do un parere di un sociologo di uno studioso certo no no ma infatti ti ricorderai bene che non ero un grandissimo studioso nemmeno io al di là del racconto della cronaca spiccia e del dramma che può essere espresso nella chiacchierata invece che nel telegiornale ecco però cerco cerco di guardare un po' avanti di capire un po' dove stiamo andando attraverso persone che eh sotto certi aspetti soprattutto quello musicale sì sì hanno una una cultura particolare no allora più che musicale allora da un punto di vista musicale se guardi un po' quello che dicevi te no ehm l'avvento dei beatles ha cambiato completamente il linguaggio della 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 musica per i per per le giovani generazioni cioè ha veramente per la prima volta focalizzato eh il il target dei giovani come un target sensibile a determinati temi alla musica no eh quindi loro hanno hanno per primi introdotto questo elemento rivoluzionario che però e sono stati più grandi nel fai primi e i più grandi tralasciare un po' il discorso di critica musicale sì sì fenomeni dal punto di vista sociale ah da un punto di vista sociale è stato un fenomeno fondamentale per la definizione della della condizione giovanile no eh dagli anni sessanta in poi e quindi questa cosa un po' del ritorno mi viene in mente legata ai Rolling Stones la battuta pubblicata su un giornale fareste mai uscire vostra figlia con uno di questi c'era la foto di Rolling Stones che non brillavano per bellezza neanche da giovani no? però non era un problema di bellezza era un problema di messaggio era un problema di soggetto quindi questa cosa che la musica si porta dietro eh è è è legata già alla fine degli anni sessanta e credo che sia in parte eh legata alla natura dell'età che si ha quando si ascolta quella musica eh per noi potevano essere Beatles e Rolling Stones per questi ragazzi non per noi, quelli prima di noi dai quelli prima di noi no ma è per una questione di gusti siamo un po' italiani? ah sì sì, di gusti sì sì sì, era una questione di gusti cioè ehm però ecco è anche un'idea di libertà no? di rottura di schemi che tante volte rimane poi nel chiuso della della cameretta dove si sente la 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 musica no? io ho ascoltato per tanti anni sesso droga e rock n roll e ti giuro che ho suonato tanto rock n roll ma per il resto quindi chiaramente stiamo parlando di droga eh? no però ecco no no io ho parlato solo di rock n roll però quello che ti voglio dire è che il messaggio che veicolavano anche certe band cioè che ho ascoltato io che ho suonato era veramente questo sesso droga e rock n roll però non ha minimamente influito sul mio modo di comportarsi sul mio modo di vivere e come me tantissimi ragazzi che suonavano che ascoltavano musica che andavano ai concerti quindi il messaggio secondo me spesso è un elemento per sfogare alcune frustrazioni che nell'età dei 15 16 13 anni si hanno no? e però tendenzialmente rimane rimane lì io questo almeno nella mia esperienza personale quindi scinderei i contenuti dall'accaduto e dalla fotografia di questa generazione qui sicuramente te dicevi diversa da come siamo noi sono diversissimi ragazzi di oggi da come eravamo io e te alla loro età e come erano i nostri genitori alla loro età rispetto anche già a noi no? certo assolutamente quindi la cosa però interessante è che c'è lo sforzo che dobbiamo fare è trovare la chiave di lettura io ho la fortuna ogni tanto di andare a lavorare nelle scuole superiori perché vado a raccontare cosa si fa il polo, cosa fanno le start up, l'innovazione eccetera e mi rendo conto che mi devo adattare a un contesto nuovo cioè quello che fanno questi ragazzi è vivere in un mondo dove sono più stimolati è tutto veloce quindi anche come io approccio loro non lo posso dare per scontato cioè devo trovare delle formule che mi permettano di mantenere quella velocità nell'interazione ma non è che questo vuol dire che loro sono peggio di come eravamo noi sono semplicemente diversi e questa diversità è quello scalino che tutte le generazioni hanno con quella successiva ma questa diversità quanto è influita dai mezzi in modo particolare dalla rete? secondo me tanto tanto questo sicuramente influisce tanto però ecco quello che ti voglio dire no perché poi si tende a fare tutta un'erba un fascio eccetera la fortuna come ti dicevo a volte sono venuti anche qui dei ragazzi che vengono dalle superiori a far vedere quello che fanno eccetera e sono ragazzi fantastici cioè ricordo sempre quel gruppo del Majorana che è venuto qui a fare il Coder Dojo il Coder Dojo è un'attività in cui si insegna ai bambini a programmare un computer perché l'idea di fondo è che un bambino debba essere protagonista della propria attività sul computer non un utente passivo che usufruisce quindi spiegargli che il computer si può gestire si può utilizzare in maniera attiva e sono venuti in alternanza scuola lavoro questi ragazzi dal liceo Majorana e professionisti cioè persone serie, gentili, educate lontanissimi dagli stereotipi ma ne ho visti tanti anche andando nelle scuole si percepisce quindi c'è un problema nostro anche di lettura di quel contesto c'è un problema nostro di adattamento del linguaggio sono stati giusti per guardare quello che stanno facendo è normale non mi sento neanche di farmene una colpa no? perché è difficilissimo cioè come dicevi te sono influenzati da questi nuovi media e a volte per gioco gli chiedo se qualcuno ha mai visto un vinile no? si parla di musica argomento che può essere anche un ponte in questo caso eh no è bravo questa è la soluzione per avvicinarsi trattiamo gli stessi argomenti da punti di vista diversi e cerchiamo di capirci io la cosa che a volte utilizzo il trucchetto che utilizzo per parlare con i ragazzi è dirgli che io suono in una band quindi mi vedono vecchio perché per i loro occhi sono attempato e questa cosa no? creare questa frattura no? dicendo ma io suono in una band con i miei amici ma come suono in una band? che locali suona? allora vengo a vedere cioè crea un vincolo crea un legame che poi utilizzo per dopo riportare il tema che mi interessa su cui devo fare l'intervento però è trovare la difficoltà è trovare queste queste chiavi di lettura e di comunicazione perché leggere tutto sommato può essere anche facile e parlare più complesso per farsi capire volevo approfittare per fare un'ultima domanda c'è stato il periodo della rivoluzione musicale partiamo Beatles e Rolling Stones che partono, fanno il loro percorso artistico mandano un messaggio e hanno un grandissimo ritorno ma credo che soprattutto all'inizio non ci fosse lo spirito commerciale nel senso nel voler per forza ottenere il successo e poi mantenerlo stando sugli standard che richiedeva il pubblico anzi diciamo che in certi casi hanno fatto proprio della battaglia la loro forza poi c'è stato un periodo anni 80, 90 anche un pochino dopo dove il commerciale cioè un'etichetta discografica che prende tre bei ragazzi ho tre belle ragazze che magari non sanno né suonare né cantare io il giudizio non lo do perché non sono all'altezza però messi insieme che hanno quell'immagine che suonano quel tipo di canzoni che è e come direbbero i ragazzi spaccano per un periodo relativamente breve perché tanto sono fenomeni che vanno su e giù e poi ci sono quelli di oggi che sono fra virgolette definiti influencer oltre che cantanti e artisti e che sfruttano il mezzo la rete youtube in particolare per per arrivare laddove possono far breccia non riesco ancora a capire se dietro c'è la strategia commerciale e mi sembra difficile perché comunque sono tante etichette indipendenti anche no dal punto di vista musicale o se è proprio il mezzo che porta a un rapporto più personale cioè io che cerco di influenzare te e poi quella accanto e poi quella accanto perché so che youtube è un certo tipo di collettore la domanda difficilissima giulio allora sulla parte commerciale secondo me allora c'è una bellissima intervista di frank zappo che è stato uno dei più grandi musicisti della scena rock si ho visto era ieri sui giornali che non lo so che racconta l'evoluzione dell'industria musicale dal suo punto di vista tra il periodo diciamo diciamo più libertario degli anni sessanta settanta fino a quello più commerciale e racconta la transizione è provocatorio ma frank zappo era intelligente non solo musicalmente e dice delle cose molto interessanti per cui averne voglia merita di essere vista e quindi il problema del commerciale quindi del fare musica solo per vendere è sempre esistito esisterà sempre come esistono sempre sacche di resistenza dove culturale dove ci sono band che non sono disposte a a ragionare su un piano commerciale no? ho visto una bella intervista su youtube l'altra sera dei Rem dove dicevano siamo arrivati a un punto della carriera per cui abbiamo deciso di sciogliere il gruppo ma la cosa bella che possiamo dire è che abbiamo sempre fatto la musica che volevamo e quindi questa questa dualità secondo me è sempre è sempre esistita o comunque si è accentuata negli ultimi anni ma insomma tendenzialmente c'è sempre stata come questo impatta su youtube cioè su come i nuovi mezzi come youtube impatta su queste questo fenomeno qui sinceramente anche io ho tutti i tuoi dubbi perché è una polverizzazione no? non si capisce quali sono anche i meccanismi per cui un influencer emerge rispetto a un altro io anche io ho difficoltà e si torna a quello che si diceva prima sulla capacità di leggerlo no? questo questo mondo qui quindi anche io su questa cosa qui ho un po' di di difficoltà anche perché poi i talent ti portano in una direzione in cui si trovano anche persone molto capaci cioè chi canta nei talent è bravo ma è bravo a cantare il più delle volte sono fenomeni che se non trovano l'artista è meglio perché è artista non perché tecnicamente capito? secondo me è meglio avere una voce un pochino più incerta ma una grande vena poetica per i miei gusti però per l'industria musicale conta più una bella voce una bella presenza probabilmente perché certo tutti i ragazzi ci sono tanti dubbi però ecco l'impatto dei nuovi media su questa cosa qui ha anche avvolto un effetto positivo perché fa emergere anche delle proposte di gran qualità no? da diciamo dal rumore di fondo però tendenzialmente sono meccanismi difficili da interpretare dico come al solito non abbiamo abbastanza tempo per parlare di tutto quello di cui si potrebbe parlare ti do appuntamento a un prossimo incontro quando vuoi vengo sempre volentieri non solo appunto della parte fra virgolette legata al lavoro delle tue conoscenze ma anche per fare queste chiacchierate e avere un punto di vista cercare di dare un punto di vista anche un po' particolare grazie davvero a tutti per aver seguito anche oggi buongiorno con noi grazie alla regia di Matteo Bedini appuntamento a domani arrivederci grazie a tutti